allora rieccoci sappiate che adesso proviamo a invitare i nostri amici valeria ci sei buonasera ri buonasera mazza quando la tecnologia ci si mette porca miseria valeria devi apparire altrimenti ciao manu grazie che qualcuno si sta riconnettendo chiara ciao ciao barbara vediamo linda ce l'hai fatta peccato che abbiamo dei problemi linda metti a posto con la tua energia e insomma io finché non risolvo questo problema sono decoccio ciao rosa che sorprese allora valeria dove sei valeria valeria compari valeria ferini linda abbiamo avuto dei problemi c'è online ci sta scrivendo linda localzo che è la terza del terzetto che realizzerà questo workshop questo seminario sulle fiabelle nuova terra bologna il 22 23 dicembre vediamo un po se se valeria compare che la la nostra compagna d'avventure con la quale dovevo volevamo dividere stasera lo schermo lo spazio per parlarvi di questo progetto ma valeria non si annunce non si palesa ciao righetto ciao anna grazie di esserci vediamo quanta c'è tanta gente c'è tanta gente nella peggiore delle ipotesi andremo separatamente adesso vediamo io intanto sto aspettando valeria che non non si palesa dicevo io adesso sto invitando alla trasmissione vediamo un po valeria ferini ci sei niente c'è il mondo tranne che valeria c'è grazie mondo di esserci ma niente da fare c'è un'altra valeria valeria ciao valeria bucoschi eccoti valeria ciao allora adesso proviamo vediamo 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 è successo qualcosa vediamo è successo qualcosa si approviamo sta accadendo aggiungiamo valeria forse ce l'abbiamo fatta aggiunta in corso ditemi che ce l'abbiamo fatta dice aggiunta in corso per cui dovrebbe dovresti comparire da un momento all'altro sappilo dovresti comparire da un momento all'altro vediamo se compare alla mia destra la mia sinistra seconda valeria c'è sì valeria c'è elena infatti solo che io l'ho aggiunta e l'ho aggiunta alla trasmissione ma per il momento non si palesa sulla mia destra sulla mia sinistra sopra in basso continua a vibrare l'aggiunta in corso mazza un parto è un parto informatico valeria eppure ti sto aggiunti dice che sei aggiunta aggiunta in corso quindi punto valeria compari niente approva riceverà un invito io devi farti aggiungere senso che io te l'ho inviato tu me l'hai inviato io ti ho approvato mamma mia pronto dai su facciamo una magia visto che parliamo di fiabe sì ti leggo valeria ma io ti ho mandato mi dice che ti sei ti ho aggiunta ma non compari questo è il problema il problema è questo aggiungi aggiungi aggiunta in corso vediamo che succede adesso siamo a riprovare sì ci sono dei problemi tecnici sicuramente perché tutto funziona alla perfezione nel senso che adesso la sequenza l'abbiamo fatta mi dice aggiunta in corso ma non ti aggiunge o è molto debole la connessione di uno dei due o di entrambi è fatto sta che non riesce ad aggiungerti valeria non riesco a capire perché perché la sequenza è giusta tra l'altro ma poi non vedete lo schermo ma in realtà mi compare la scritta che sta lampeggiando con scritto aggiunta in corso di valeria ma non la riusciamo a a inserire la trasmissione ma io direi che possiamo l'audio l'audio l'invito relativo è andato perso noi ci riproviamo per l'ennesima volta altrimenti valeria se mi ascolti altrimenti non riesce ad aggiungermi allora facciamo una cosa pratica io direi questo valeria che tra un po ci diamo una sorta di cambio facciamo dieci minuti a testa un quarto d'ora testa e poi tu vai avanti sulla tua bacheca ok in modo tale che non diciamo così usiamo questo tempo giustamente connessione rifiutata infatti mi dice che la tua connessione rifiutata valeria evidentemente c'è un problema di connessione allora io ci sto riprovando nel frattempo che tanto che me costa a me fiabe della nuova terra poi vi spiego perché fiabe della nuova terra poi allora io faccio la parte tecnica per una volta tecnica per modo di dire tecnica con cuore allora fiabe della nuova terra nasce dalla desiderio che ci siamo ritrovati io, Valeria Ferini e Linda Localzo di adoperare, usare la simbologia delle fiabe per farne una sorta di alchimia interiore cioè di lavorare con l'energia che le fiabe sprigionano con l'energia che le fiabe emanano lavorando dentro di noi questa cosa è nata quasi per gioco e ha cominciato diciamo così a diventare invece a propagarsi dentro di noi a prendere spazio sempre più spazio finché a un certo punto non ci siamo ritrovati con un progetto concreto e ci siamo detti però fiabe della nuova terra dopo vi spiego perché della nuova terra ma poi cos'è accaduto è accaduto che abbiamo deciso di affrontare un tema importantissimo al giorno d'oggi di cui ci parlerà anche Valeria che è il tema del vuoto di qualcosa che ha a che fare con il vuoto di che cos'è il vuoto di come proviamo a riempirlo costantemente in una società così ricca di input e non solo di stimolazioni e nel frattempo si è aggiunta abbiamo chiesto a Giulia Reggiani Giulia Ghibli di farci un logo che fosse sempre un logo tutto nostro che troverete nelle locandine e da lì abbiamo trovato un'amica comune cara a Bologna che ha un'associazione meravigliosa che si chiama Punto di Svolta nella quale gravitano molti amici comuni e nel frattempo ci è venuta un'esigenza l'esigenza era quella di lavorare appunto sulle fiabe della nuova terra cioè su fiabe che moderne quindi attuali quindi scritte da persone da autori che consapevolmente o inconsapevolmente lanciano danno un nuovo sguardo su quello che è il il mondo della fiaba io ritengo che le fiabe tradizionali hanno ancora una valenza enorme ma che ci sono delle fiabe c'è stata una frattura un passaggio con quelle fiabe che tra la fine dell'ottocento e inizio del novecento hanno colpito l'immaginario di tutti da Peter Pan al mago di Oz al piccolo principe Alice nel paese delle meraviglie Mary Poppins tutt'altro che scontata e melensa queste fiabe hanno segnato una frattura un passaggio prima ancora Andersen l'aveva fatto perché hanno ci hanno riportato dentro hanno riportato l'essere umano a doversi confrontare con una sfida nuova che è la sfida del nuovo mondo questo nuovo mondo di cui tanto si parla e parliamo è un mondo ancora liquido un mondo ancora in informazione ancora in gestazione ancora fragile ma che comunque i suoi semi li ha fatti li sta facendo attecchire e quindi abbiamo c'è nata proprio l'esigenza di lavorare su fiabe attuali moderne di persone che sono vive che sono che si propongono con la loro con la loro energia e tutte e tre sia io che Linda che Valeria amiamo molto Chiara Gamberale che è un'amica e io trovo che il suo ultimo libro ufficiale in realtà in questi giorni è uscita ancora una sua fiaba ma in occasione del Natale diciamo così il suo ultimo libro che si chiama Qualcosa è una fiaba per adulti una favola per adulti una favola morale di una potenza incredibile e allora ci siamo detti perché non iniziare proprio con qualcosa che è la fiaba che ha scritto Chiara due anni fa e quindi da lì è nato questo progetto abbiamo chiesto a Chiara la possibilità di usare il suo nome e il suo materiale e Chiara è molto felice di questo e abbiamo deciso di approntare le fiabe della nuova terra questo è il primo di tanti speriamo ci auguriamo desideriamo di tanti appuntamenti e abbiamo deciso di affrontare l'idea del seminario in maniera monotematica una fiaba per volta e questa è la prima fiaba che abbiamo deciso di usare in questo percorso qualcosa se non lo conoscete fatelo andate a conoscerlo subito questo libro e non nasce dal mondo olistico spirituale ma nasce comunque da una persona vera che ha una profondità assolutamente potente e ci sono degli archetipi e degli spunti in questa fiaba meravigliosi che io Linda e Valeria interpreteremo e faremo in modo che i partecipanti a questo seminario che sarà il 22 il 23 dicembre appunto di svolta a Bologna trovino degli spunti che possano essere loro utili nella vita di tutti i giorni nel percorso che stanno compiendo io direi che posso lasciare la parola a Valeria adesso se vi va di sintonizzarvi se non siete suoi amici chiedetele le amicizie assolutamente poi vabbè comunque quando Valeria inizia io lo condivido sulla mia pagina e mi piace l'idea che che Valeria continui idealmente questo discorso sarebbe stato bello ci fosse anche Linda chissà magari Linda se ti viene voglia poi puoi fare un trittico a questo punto visto che non è una diretta doppia e se avete poi vi risuona e avete desiderio di saperne di più non solo c'è l'evento del workshop del seminario che si chiama fiabe della nuova terra qualcosa ma potete anche scriverci in privato adesso io vi saluto e mi godo Valeria e chissà magari anche Linda ok niente diretta doppia avremo altre occasioni sicuramente ciao a tutti sto proseguendo questa è una diretta che serve a ricordarvi il seminario esperienziale che si intitola fiabe della nuova terra e che avrà luogo il 22 il 23 dicembre a Bologna e Francesco Carpinteri che è uno dei conduttori insieme a Linda Lucalzo e a me ha appena fatto una diretta sulla sulla sua pagina facebook in cui stava introducendo e spiegando un po' che cosa andremo a fare mi dispiace ma non siamo riusciti in realtà dovevamo fare una diretta in tandem però ci sono stati dei problemi dei problemi tecnici si vede che doveva andare così io proseguo quello che che vi stava dicendo Francesco e comunque ho condiviso subito il video che lui ha che lui ha postato allora fiabe della nuova terra appunto è un progetto che ci vede ci vede con partecipi a me Francesco e Linda perché abbiamo questa affinità sia per il mondo delle fiabe e questo interesse per il mondo delle fiabe che troviamo sia magico che educativo che è proprio uno strumento molto molto semplice e allo stesso tempo leggero e profondo per affrontare delle tematiche importanti per affrontare noi stessi per per trasmutare anche quello che siamo e che vogliamo vogliamo trasformare e vedere in una nuova luce e poi la nuova terra perché siamo nel pieno del nuovo mondo in realtà noi siamo esattamente su un camminiamo su un filo siamo proprio come degli equilibristi tra il vecchio che non va assolutamente rinnegato buttato via in toto e il nuovo e quindi il nostro compito è proprio quello di di bilanciare di essere di portare temperanza in questi tempi che sono molto turbolenti come tutti notate sotto tutti i punti di vista per cui vogliamo sia le fiabe ma anche le fiabe della nuova terra del nuovo mondo della nuova vibrazione e quale fiaba migliore che non una fiaba per adulti che ha un romanzo molto originale che ha funzionato e funziona tanto nel panorama letterario italiano guardate io vi faccio vedere anche la copertina perché è anche una si vede e anche come grafica non soltanto è una bella scrittura semplice che arriva con dei temi profondi affrontati in un modo fiabesco leggero anche che colpiscono però c'è anche una bellissima grafica del fumettista artista Tuano Pettinato Francesco in realtà col suo modo leggero vi ha già detto l'essenza e io quello che vi posso dire è che mi rende felice di partecipare è che questo incontro sarà proprio a Natale perché il 22 e il 23 siamo assolutamente sotto Natale cioè in realtà siamo già sotto Natale e quale miglior periodo momento di cercare il vuoto in un momento in cui all'esterno il vecchio mondo ci vuole riempire ci sono le pressioni per fare i regali per andare di qua per andare di là i panettoni ormai c'è da settembre che sono già nei supermercati cioè in realtà mentre a livello proprio di energia collettiva universale spirituale comunque del pianeta terra man mano che si avvicina all'avvento si va verso un'energia di rinascita sia che uno sia credente o meno in Cristo è una tradizione cristiana però ecco questa energia forte si sente c'è qualche cosa di particolare e più c'è già questo contrasto interessante il mondo esterno la nostra tradizione di celebrare Natale da un punto di vista sociale collettivo commerciale è tutto un riempire è tutto un riempire più o meno probabilmente anche voi ora vivete immaginate abbastanza facile non per tutti perché le cose stanno cambiando però abbastanza facile immaginare questo periodo dell'anno cioè da fine novembre a Natale come una specie di trottola in cui volenti o nolenti siamo anche chi fa un percorso di consapevolezza o non voglio dire spirituale perché è tutto spirituale quindi non stiamo a fare i diversi perché facciamo chissà che cosa insomma stiamo tutti insieme nell'uno in realtà appunto ci si trova spesso in questo vortice anche se si cerca di proteggersi quale cosa migliore è di andare a contattare il vuoto proprio in quei giorni lì quel vuoto che è una risorsa quel vuoto che ci fa una paura pazzesca perché è un allontanarsi è uno spostarsi è un riposizionarsi rispetto al movimento di molti però se noi valichiamo questa paura che è un guardiano della soglia e poi qui c'è veramente il fulcro della creatività mi viene da dire anche della guarigione o quantomeno di un cambiamento di percezioni rispetto a quelli che possono essere le problematiche e quello che a me fa impazzire di gioia è la parte alchemica perché come con Linda avevamo fatto un seminario per presentare il suo libro e il leitmotiv era proprio la cosa più pesante più di piombo che hai rifiutato è quella che ti porterà alla guarigione è quella in cui sono nascosti i doni qui noi proseguiamo su questo cioè uno dei temi del libro che andremo ad affrontare anche con esercizi con con la parte sperimentale è proprio questa cioè provate a pensare vi accendo una cosa senza dirvi troppo però provate a pensare a come esattamente quelli che voi percepite o avete percepito come difetti vostri o comunque situazioni o ambiti che non sopportate o che vi fanno penare o che vi danno fastidio vostri oppure degli altri sono e sono quindi considerati troppo sono considerati troppo ma in un senso negativo provate a pensare come queste cose viste da un altro punto di vista possono diventare delle risorse provate a pensare come anche quel vuoto da cui all'inizio vogliamo scappare quel vuoto che noi soprattutto all'inizio della nostra vita delle nostre esperienze vogliamo andare a colmare con tante robe con le persone con i progetti con i viaggi con con i film con le avventure con con quell'entusiasmo no? provate a pensare a come eh quel vuoto appunto da cui fuggiamo e anche quel senso di mancanza quel senso di inadeguatezza quel sentirsi incompleti sbagliati non sia visto con altri occhi non sia un lascia passare proprio per contattare il profondo di noi per contattare la nostra saggezza la nostra gioia per contattare quella anche quella leggerezza che cerchiamo ecco però quella leggerezza che cerchiamo abbiamo bisogno di raggiungerla standoci in quel vuoto facendoci pace cominciando a conoscerlo con tanta dolcezza e tanta delicatezza cominciare a contattarlo senza fuggirne e quando si valica questo passaggio così delicato ma così importante così fondamentale anche per cominciare veramente ad uscire dai nostri vecchi schemi che sono sempre quelli esci da questa cosa come dicevamo spesso fino a poco tempo fa parafrasando il mitico psichiatra Raffaele Morelli che non è uno psichiatra tradizionale cioè esci da questa cosa esci dalla tua storia personale esci dalla solita tiritera che ti racconti perché in fondo noi ci raccontiamo tante tiritere anche perché abbiamo proprio paura dell'horror vacuice del vuoto del silenzio non è che non lo sappiamo io a volte ho sospetto non è che è così difficile da saper reggere è che fa paura e poi quindi questo sarà sicuramente una una cosa che andremo ad affrontare per cui sicuramente chi si sente chiamato affronterà affronterà insomma passerà per alcuni anche affrontare perché il Natale è un periodo che non è mai neutro e affronterà vivrà il Natale sicuramente in un modo diverso alternativo ecco poi vi lascio con questa questa osservazione che mi ha fatto ieri Antonella Lea Fadda che è un'altra nostra amica in cui le parlavo di questo laboratorio che andremo a fare questo seminario laboratoriale e lei mi ha detto una frase che mi è rimasta molto impressa e questo vi fa un po' capire il senso cioè quando vuoi riempire il vuoto di tante cose è come bere la Coca-Cola bene o male insomma ti piace sul momento o a molti piace visto che è ancora una delle bibite più vendute però ti fa male non è bere il nettare degli dei non è quella pienezza quella gioia nutriente che rimane quella autentica quella del sé dell'anima però cosa succede che per bere il nettare degli dei tu ti devi svuotare e quindi per sto benedetto vuoto bisogna passare e non bisogna spaventarci bisogna andare oltre quella paura totalmente umana molto promossa da questa società occidentale e soprattutto visto che stiamo parlando del nuovo mondo noi non asperiamo e neanche vogliamo quel vuoto dell'eremita che sta lassù sulla montagna e rifiuta il caos e rifiuta i casini i problemi la vita qua perché noi siamo qua ok no e c'è un vuoto chiude il nuovo mondo c'è un riuscire a trovare il vuoto proprio anche in mezzo alla vita e cioè significa riuscire a vedere la trama all'ordito di tutto a vedere anche l'altro lato e non spaventarci di quello che succederà dopo dell'ignoto anche in un certo senso se volete accettare l'inconsistenza delle cose cioè che passa tutto passa quindi essere sia metropolitani ma anche zen allo stesso tempo stando qui vivendo qua noi ci proviamo a fare questa cosa e vi ringrazio Francesco ancora per per avermi passato parola e insomma se vi sentite stuzzicati incuriositi noi siamo qua e vi auguro per questa sera per questo lunedì sera tantissimo vuoto ciao ciao